ciao ben trovata ben trovato sono sul trattore New Holland 4030 Deluxe e sto frangizzollando il terreno adesso scendo ti faccio vedere abbiamo avuto qualche giorno di pioggia per più la terra è pronta per essere raffinata mi trovo nel terreno che dista circa due chilometri da anche meno chilometri e mezzo dalla mazzanta che è una località spalmeare quindi siamo vicinissimo al mare costa delle kruski in toscana dietro di me come puoi vedere ci sono già degli allori piantati da diversi anni che avranno una funzione di frangimento contro la salsedine roma del mare per cui in questo momento sto raffinando il terreno sto andando ad una velocità di 6,5 km orari con un frangizzolle molto arcaico vediamo insieme un attimo che scendo eccoci qua fantastico oggi è una bellissima giornata eccoci qua insieme guardabuoi che come si muove il terreno si fanno vedere per beccare qualche baco fantastico questo è il terreno che stiamo preparando è abbastanza raffinata perché è piovuto ora sono tre giorni che non piove per cui è pronta per essere raffinata perché qui faremo un nuovo impianto di circa 750 piante non è un impianto intensivo un impianto tradizionale toscano con coltivare prettamente diciamo toscano eccolo qua adesso il terreno è libero e ci prepariamo alla nuova piantumazione per cui dopo aver fatto tutte le lavorazioni oggi passiamo questo frangizzolle che ti dicevo appunto è arcaico perché viene regolato da una corda quindi non c'è l'innesto idraulico al terzo punto per cui per dare una finitura migliore al terreno ti saluto qui da Bada Comune di Rosignano Marittimo ciao